Il vice premier, ministro dell'interno e leader della Lega Matteo Salvini questa sera alle ore 21 torna a Pescara ma ha annullato le altre due tappe dell'estate italiana tour in programma per oggi in Abruzzo, quelle di Fossa Cesia e San Salvo Marina. Massima allerta nel capoluogo adriatico dove un chilometro di lungomare sarà off limits dal pomeriggio di oggi fino alle 10 di domani ma soprattutto due piazze contrapposte in occasione dell'arrivo di Salvini nel pieno di una crisi politica ormai aperta. Al comizio del leader della Lega la nave di Cascella fa da contraltare in contemporanea la contramanifestazione sulla spiaggia della Madonnina di una rete di associazioni che ha promosso il presidio per la libertà. Per motivi di sicurezza tutto il lungomare sarà chiuso al traffico per l'intera serata e uno schieramento di forze dell'ordine impedirà ogni contatto tra le piazze contrapposte. Salvini arriverà soltanto verso le 19.30 poiché preferisce restare a Roma per seguire l'evoluzione del quadro politico dopo il colloquio di ieri con il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Terrà una serie di incontri politici riservati, un comizio pubblico e dovrebbe fermarsi anche per la notte se il programma del tour estivo proseguirà senza altre sorprese con la tappa di domani a Termoli. Oltre al divieto di transito e sosta dei veicoli sia sul lungomare che nella zona centrale della città scattano la rimozione dei cassonetti dei rifiuti e lo svuotamento e la sigillatura dei cestini portarifiuti e delle isole ecologiche, i divieti di consumo o di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, il divieto di abbandono di questo tipo di contenitori in largo mediterraneo per 100 metri sul viale della riviera e per altrettanti metri sul lungomare Matteotti nel tratto di spiaggia libera ridosso della nave di Cascella. Nel pomeriggio alle ore 16 è prevista una conferenza stampa dei deputati Giuseppe Bellachioma e Luigi D'Eramo, rispettivamente segretario della Lega in Abruzzo e responsabile degli enti locali, i quali ieri hanno incontrato i 10 consiglieri e 4 assessori regionali del partito. Al termine della riunione è stato evidenziato che in Regione serve maggiore confronto, poiché a sei mesi dalla vittoria il partito aspetta ancora di affrontare i temi principali che riguardano l'Abruzzo. Vengono espresse perplessità sia sulle nomine che riguardano le aziende sanitarie che la revisione del bilancio regionale e il mantenimento da parte della Giunta e di alcuni assessori degli impegni che i consiglieri della Lega hanno presentato e votato. Per quanto riguarda il presidio in programma nell'area della Madonnina, il consigliere comunale e assessore uscente Giovanni Diacovo afferma che mentre Salvini diffonderà la sua politica di intolleranza e molti saranno lì per difendere umanità e libertà. Mentre il neosegretario regionale del Partito Democratico, Michele Fina, evidenzia che la sfacciataggine della propaganda è arrivata a un punto tale da pensare a organizzare un giro di comizi per promuovere un progetto, quello della secessione mascherata da autonomia differenziata, in territori che saranno vittime di quel progetto che se realizzato non farà altro che allargare il divario tra nord e sud del paese. Infine il decreto sicurezza bis viene definito da potere al popolo abruzzo disumano.